Il riordino della struttura sanitaria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è stato al centro di un incontro promosso oggi dal manager dell'ASPA Carmelo Iacono. Molte azioni sono già state fatte in questo senso, ma molte altre azioni saranno fatte. Mi piace dire che per quanto riguarda il Gela abbiamo dei progetti che sono progetti assolutamente importanti. Durante l'incontro di oggi si è parlato anche del polo oncologico. Ho visto che c'è stata un pochettino di speculazione sull'argomento del polo oncologico a San Cataldo, ma l'atto aziendale, ed è a conoscenza di tutti perché è pubblicato sul nostro sito, prevede un perfetto equilibrio tra i due poli che ci saranno oncologici in provincia, che sarà uno all'ospedale Vittorio Emanuele e uno all'ospedale di San Cataldo. Ovviamente, probabilmente, quello di San Cataldo può sembrare più eclatante perché è come se fosse il padiglione di un ospedale, ma Gela non abbiamo il padiglione di un ospedale da dedicare all'oncologia. Però, purtuttavia, mi piace ricordare che al Vittorio Emanuele sono previste una divisione di oncologia medica con posti letto e stiamo cercando, già abbiamo individuato, l'allocazione nei nuovi locali dell'oncologia dove avrà il posti letto, raddoppiando il numero di stanze che ha a disposizione. Ci sarà una unità operativa semplice di ematologia, c'è l'UFA per la diluizione dei farmaci antiblastici, ci sarà l'unica unità operativa complessa di breast unit, proprio seguendo una vocazione che c'è all'interno di questo ospedale, c'è l'unità operativa complessa di radioterapia e poi ci sarà l'unità operativa semplice per quanto riguarda la prevenzione secondaria dei tumori, degli screening oncologici. In aggiunta c'è anche l'ospice, stesse identiche cose che sono all'ospedale di San Cadaldo, all'ospedale Sant'Elia San Cadaldo. Il manager si è soffermato anche sulla novità che riguarda la tacca. Tra le tacche che abbiamo acquistato, una di queste tacche, ve la porto a titolo di esempio, andrà proprio allocata all'ospedale Vittorio Emanuele, ma non in sostituzione della tacche che già c'è, ma in aggiunta alla tacche che c'è, tacche che dico verrà anche sostituita quella che c'è, con una tacche con maggiore potenza di indagine. Durante l'incontro si è parlato anche della cittadella della salute. Nel terreno limitrofo all'IPAB che andremo probabilmente allocare, per allocare tutta la medicina territoriale, in quel terreno limitrofo noi abbiamo intenzione di andare a creare una struttura leggera che possa accogliere ambulatori e servizi che sono tra l'ospedale e il territorio, quindi creare qualcosa che è estremamente integrato. Ebbene, abbiamo fatto un solo luogo con la Sovrintendenza delle Belle Arti per vedere se ciò era fattibile in questo terreno, se c'erano dei vincoli particolari e abbiamo avuto la conferma che quella che è la nostra idea può essere un'idea che è percorribile.